Per ora ti basti sapere che il marchio del tatuaggio è l'unico modo che abbiamo per difenderci da chi ci vuole annientare. È il posto segreto dentro il quale possiamo nascondere ciò che per noi è sacro. Non portiamo i marchi per vantarci davanti agli altri, ma perché quello è l'unico mondo incontaminato che ci è rimasto. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.